Una struttura commerciale completamente distrutta per un danno complessivo che si aggira sui 50.000 euro. È la conseguenza del furioso incendio che nel tardo pomeriggio di ieri si è sviluppato all'interno della struttura in legno gestita in piazza 24 Maggio da Giuseppe San Marco, combattivo rappresentante dei commercianti di piazza Regina Margherita. Erano da poco passate le 18.30 quando le fiamme, altissime, si sono levate dall'interno del box. Inmediato l'intervento dei vigili del fuoco della caserma a Bonifazi che hanno almeno evitato che l'incendio si propagasse alle altre strutture vicine. In pochissimi minuti del box gestito da San Marco infatti non c'era praticamente più nulla. Sul posto sono poi arrivate le forze dell'ordine, carabinieri e polizia che hanno iniziato le prime indagini. Stando ad una serie di voci raccolte nella zona del mercato, qualcuno avrebbe visto due persone incappucciate in sella ad uno scooter lanciare un oggetto incendiario all'interno del box. Peraltro non sarebbe la prima volta che San Marco subisce un simile attentato. Un episodio analogo era infatti già avvenuto 12 anni fa, nel gennaio del 2011. Non si esclude comunque neanche l'ipotesi che a provocare l'incendio possa essere stato un classico cortocircuito. A riguardo potrebbero risultare decisive le immagini di alcuni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver registrato i momenti precedenti a rugo. Sarà fondamentale anche la perizia svolta dai vigili del fuoco, che si sono già messi al lavoro. Sull'episodio ovviamente è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica e ieri sera sul posto sono arrivati anche il sindaco Ernesto Tedesco ed altri esponenti dell'amministrazione comunale, che hanno voluto esprimere la loro solidarietà a San Marco. Un momento difficilissimo per il commerciante, da circa 40 anni, tra i protagonisti della vita dello storico mercato Civitavecchiese. Adesso, qualunque sia stata l'origine dell'incendio, dovrà ricominciare da capo e affrontare spese ingenti.